La vera dipendenza patologica oggi sia non tanto tra il giocatore e la macchinetta, quanto tra lo Stato e l'idea stessa di gioco. C'è la deliberata idea di fare profitti su un disagio, amplio a dismisura al numero dei poveri, per avere i soldi per finanziare i servizi per quei nuovi poveri. È un'idea da scardinare a partire dai suoi fondamenti. Il fondamento principale è che esista un modo di giocare socialmente accettabile. Dire che attraverso i proventi del gioco si possono curare i giocatori patologici, come dire a uno stupratore che per curarlo c'è bisogno che altri stupratori girino indisturbati per le strade, anzi che si diamo da fare. Allora come si può cercare di risolvere il problema? La risposta deve partire dalle comunità, dai condomini che possono decidere nei locali commerciali in SADVT non debbano esserci sale slot che giustamente depreciano quello che è il valore dell'immobile. Perché quello che per lo Stato è un numero in una comunità è una persona con una faccia. E quindi c'è una rete sociale che si deve mettere in moto per non lasciarlo solo in qualche modo e per provare a costruire se stessa un'argine alla dipendenza. La domanda vera da farsi non è come posso trarre il meglio dal gioco d'azzardo per finanziare il welfare. La domanda vera che mi devo fare è esiste un altro modo per finanziare il welfare e le pensioni che non sia il gioco? Nel momento stesso in cui lo trovo io Stato non sono più dipendente dai soldi delle concessionarie del gioco. Io Stato non sono più dipendente da quella che oggi è una delle principali industrie del paese.